Buonasera dal TG1, il paese di Campobello di Mazzara, nel Trapanese, continua a svelare i segreti di Matteo Messina Denaro. A quattro giorni dall'arresto del boss, poche ore fa, è stata individuata un'altra abitazione usata dal padrino fino allo scorso giugno. Un'abitazione che si trova vicino ai due covi già individuati. Allora andiamo subito lì con l'inviato Giuseppe Lavegna. A te Giuseppe. Sì, ve la facciamo vedere la situazione, quella che sarebbe appunto il terzo covo del boss. Vedete la polizia arrivata qui intorno alle 18 con gli uomini dello Scocchi e hanno fatto irruzione proprio dove adesso c'è quel tendone. Sono entrati in un appartamento che risulterebbe vuoto ma qui fino a giugno scorso avrebbe abitato. Si sarebbe nascosto Matteo Messina Denaro. Considerate che siamo a una distanza di appena 200 metri da quello che è stato il primo covo che è stato scoperto subito dopo la sua cattura. Ed è la conferma. Che in questo reticolato di vie proprio a Campobello il boss si sentiva completamente al sicuro. Dalle 18 dopo l'irruzione in questo appartamento possiamo fare vedere i locali che sono stati subito controllati. Qui c'è un garage che è stato aperto da un anziano. Ci ha detto di essere il fratello del proprietario. Si tratterebbe del proprietario di un uomo che vive in Svizzera da 40 anni. Ha aperto questo garage che è stato già controllato e poi un altro alla ricerca di nascondigli. Adesso è entrata la polizia scientifica con diversi uomini che dovranno repertare le tracce. Che ritroveranno chiaramente ci sarà una comparazione. Si cerca la traccia e la DNA. Quindi sarebbe la conferma che qui c'è stato Matteo Messina Denaro. Intanto è cominciata e continua l'analisi di tutto ciò che è stato trovato negli altri due covi. Nel primo in particolare sono stati trovati dei documenti. anche un'agenda che ha delle sigle e dei nomi. Per il momento c'è una repertazione presto per dire se si tratta di una sorta di libro mastro che darebbe davvero un impulso importantissimo alle indagini.